Ciao a tutti ragazzi, eccoci a questo nuovo video su Inazuma Eleven Victory Road oggi in questo brevissimo video voglio parlarvi del multiplayer perché come molti di voi sanno è stato ufficialmente annunciato il multiplayer quindi ovviamente il gioco non proporrà una sola modalità storia o solo la modalità in cui appunto andare a reclutare tutti i giocatori che conosciamo degli altri giochi, delle altre saghe anche perché sennò sarebbe molto fine a se stesso questa cosa per giocare solo contro la CPU è stata ufficialmente annunciata la modalità multiplayer che farà felicissimi i giocatori del competitivo diciamo di Inazuma Eleven e questo però ci porta anche a, diciamo a me personalmente io non sono un gran giocatore competitivo su Inazuma Eleven ma non lo sono in generale però immagino che con tantissimi personaggi, ricordiamoci sono 4500 personaggi nel gioco quindi tutti i personaggi mai creati in Inazuma Eleven saranno effettivamente reclutabili nel gioco e faranno un'apparizione quindi ovviamente non a livello di storia ma a livello quindi di competizioni, di multiplayer, di attività appunto secondarie e quindi questo porta a pensare a come avranno e se saranno riusciti a bilanciare effettivamente i giocatori per poter permettere alle persone di farsi appunto le squadre che vogliono senza favorire quei 4-5 giocatori che sono effettivamente troppo forti e che quindi dovrebbero stare in tutte le squadre e questo quindi va un po' a obbligare, diciamo, a reclutare, a mettere in squadra determinati giocatori andando però un po' a tappare le ali alla strategia e a un sacco di possibilità per divertirsi e per sperimentare quindi niente, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate io sono molto curioso di vedere come sarà il multiplayer lo proverò sicuramente anche insieme a voi per sperimentare com'è e quindi io non vedo l'ora di saperne di più voi come al solito appunto fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti iscrivetevi al canale, se volete lasciate un like e continuiamo a vivere questa attesa per nuove informazioni insieme fin qui alla prossima ragazzi, ciao! grazie a tutti